devo flexare il mio nuovo colore ebbene sì perché il colore dei miei occhi deve essere sempre più chiaro del colore dei miei capelli ora si inizia a ragionare pronta per partire penso di aver messo tutto in valigia avrò dimenticato qualcosa dovete sapere che da capri poi andrò direttamente a cecina so già che vi state organizzando in tantissime per venirmi a salutare per venirmi a seguire per quanto riguarda la conduzione sono felicissima non vedo l'ora di abbracciarvi tutte e conoscervi perché ancora non mi è ancora vista di persona detto questo io non so ancora cosa mettere zero ho portato due tre valigie con tanti vestiti ma non so cosa mettere deciderò il giorno stesso ora che giro e trovo le macchine ma vi rendete conto che mi sta accompagnando maura a casa è certo io non ci ho mai visto guidare guida sicura guida sicura che ti pensi di questa guida brava è molto brava molto attenta buongiorno un'ora di ritardo ma non sono questi problemi della vita buongiorno buongiorno un'ora di ritardo ma non sono questi problemi della vita dovete sapere che da capri poi andrò direttamente a cecina so già che vi state organizzando in tantissime per venirmi a salutare per venirmi a seguire per quanto riguarda la conduzione sono felicissima non vedo l'ora di abbracciarvi tutte e conoscervi perché ancora non mi è ancora vista di persona detto questo io non so ancora cosa mettere zero ho portato due o tre valigie con tanti vestiti ma non so cosa mettere deciderò il giorno stesso un'ora di ritardo ma non so stifo un'ora di ritardo ma non so stuff un'ora di richesar che non si è già un'ora di ritardo ma non so prendere i detenaggi un'ora di rarmi un'ora di rarmi un'ora di rarmi questo è stato un'ora di rarmi ma non so ci hanno riferito che c'è qualche scalino da fare ma che sarà mai dopo aver fatto 4.000 scalini sotto al sole a pichino express posso fare qualsiasi cosa come state bene siamo all'inizio